Buonasera, e qui che c'è la riunione del Bilderberg? Siete qui per la riunione del Bilderberg? No, no parlo italiano. Ah, are you here for the Bilderberg meeting? What is Bilderberg? It's an international group of powerful people. And which meeting are you attending? Scusi, sta andando alla riunione qui al Campidoglio? Di cos'è? Ma da chi? Ministro Fornero, buonasera, Giuliano Cezzi, servizio pubblico. Buonasera. Le volevo chiedere, ma dentro c'è la riunione, che riunione c'è? Di Michele Santorski. Sì, buonasera. Ma che riunione c'è dentro? A che riunione sta andando? C'è un invito e io ho aderito a questo. Ma chi è che l'ha invitata? Chi l'ha invitata, ministro? Dove sta andando? Vado in Campidoglio. Ma per caso c'è il Bilderberg, la riunione del Bilderberg? Questo non è un invito. Non lo sa? Sta andando a una riunione che non sa che riunione è, scusi, ministro. Non sa chi l'ha invitata, ministro. Moretti, scusi, sta andando alla riunione del Bilderberg? No, è stato invitato da Telecom, quindi non serve l'indicato. È una cosa di Telecom. Ho capito. Sindaco Alemano, buonasera, servizio pubblico. Bene, grazie. Lei? Beh, cosa succede? Eh, me lo dica lei, ma cosa c'è lì dentro? C'è una cena organizzata da Telecom, con investitori nazionali e internazionali. Adesso arriverà anche il presidente Monti, scusi. Ma perché dicono che è del Bilderberg, scusi? Perché evidentemente è stata una cosa organizzata. Adesso non so esattamente che l'invito mi è arrivato dal presidente. Presidente Monti. Presidente Monti, buonasera. Sta andando alla riunione del Bilderberg. No, no, sta, guardi. Sì, ecco, scusi. Buonasera. Buonasera. No, sta andando a una cena di Telecom Italia organizzata in onore del governo.